E' stato firmato tra il sindaco di Tortoreto Domenico Piccioni e il direttore scientifico del gruppo medico d'archivio, Claudio D'archivio, l'intesa per nessuno indietro. L'iniziativa di solidarietà e prevenzione, voluta fortemente dallo stesso dottor D'archivio, che prevede l'impegno da parte del suo gruppo medico a garantire gratuitamente uno screening mammografico alle donne residenti a Tortoreto, di età compresa tra 46 e 65 anni, che versano in una situazione documentata di fragilità economica. Si tratta di uno screening alla mammella per le donne da 45 a 65 anni. Noi abbiamo accettato e con molto entusiasmo questa proposta del gruppo d'archivio e del dottor d'archivio per questo screening alle signore che hanno delle difficoltà economiche. Ringraziamo innanzitutto il sindaco e tutta l'amministrazione del Comune di Tortoreto che ha avuto la sensibilità di appoggiare la nostra iniziativa, cioè quella di permettere alle donne meno abbiendi, insomma indigenti, che possano comunque fare prevenzione, garantendo l'accesso alla struttura per quello che riguarda l'esame di mammografia. Sì, abbiamo fatto questa esperienza l'anno scorso con Giulianova, riuscitissima, quest'anno la stiamo facendo con Tortoreto, ma è un appello a tutte le amministrazioni comunali della nostra provincia che chi volesse usufruire di questo servizio, tra virgolette, noi siamo a disposizione. Potremmo anche noi contattare l'amministrazione, ma se lo fanno loro vuol dire che loro lo vogliono fare e quindi è una cosa che ci fa ancora più piacere.